Musica 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 Belle Prima iniziale volevo dirvi che quelle scatole Dentro quelle scatole non c'è una sorpresa Sono solo scatole Ciao ragazzi e bevono di questo video Siamo qui con la boxing Delle nuove cuffie ragazzi Ve le avevo poco adesso perchè le mie ormai sono Vecchie Ragazzi andiamo subito partiamo con l'unboxing Ma perchè non mi porto mai le forbici Fammi andare a prendere le forti No non si usano così Ora andiamo a A pulire Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ragazzi andiamo a Togliere queste cose qua Ragazzi andiamo a Oh my god Ok Sono un po' dio Sono tipo Sono Allora E Ecco Queste cuffie ci hanno accompagnato Per molto tempo Abbiamo passato insieme molti scleri Molti lanci Molte champions Cioè avevi la febbre Avevi la febbre Già La loro Salutiamo Bobby No raga sono fighissime Peccato che Solo una cosa Con queste sente tipo rimbombato Oh my god Facciamo una prova ragazzi Andiamo a vedere come si sentono Il mio coso dove appoggio il telefono Si è mosciato perchè ho cambiato le cuffie Eh doveva succedere? Raga 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 Si sentono D'addio Sono una roba incredibile Questo che cavolo è sta roba Ragazzi Se vi piacerebbe Se vi piacerebbe un like A questo commento ed iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Sìì делают Abbasseranno 2 secondi per pulire Sto casino